Gli scienziati indicano genericamente i fenomeni paranormali con la sigla PSI e li suddividono in due grandi categorie, i fenomeni cognitivi come la telepatia e la chiaroveggenza che distinguono con la sigla ESP e i fenomeni cinetici che distinguono con la sigla PK come la telecinesi, la metafonia, il piegamento dei metalli e l'azione dei guaritori. Coloro che credono nell'ipotesi animista attribuiscono i fenomeni paranormali a facoltà intelligenti la cui provenienza è attribuita al cosiddetto medium, mentre coloro che credono all'ipotesi spiritica attribuiscono questi fenomeni ad entità esterne. Voi cosa ne dite? Guida. Per noi non ci sono le vostre distinzioni perché questi fenomeni, quando sono genuini, provengono tutti da una maggiore evoluzione. Domanda, ma da dove viene questa maggiore evoluzione? Guida dai piani superiori di esistenza che sempre di più trasudano nel piano fisico.